Era in quale la voce? A Rittoria! Vittoria, Vittoria! Ma non capite? No! Oh, che zucconi! Si trova in quella paia, ma è stata in paia un gesto. Io da un uomo sono stati giocando il cionamento. Vuole fare distante, portatis tu portarete a me, resta del sguardo e canti. Vedi la via, entra, ma stanza e te mia scura, entra un metto, un trapède di mozo la figura. e te mia scura. In te sta la pappellina, del lì, la pezzolina, la pezzolina, che pezzolina, che pezzolina, che pezzolina, sta la pralline, che pezzolina, gli ambilii da metto, mete ad una pancia, in 여자 aliena strace, che pezzolina, mi passaggio di mozile, Grazie a tutti. Grazie a tutti.